buongiorno ragazzi bentornati sul mio canale zoo pappagalle oggi carote a tutti i pappagalli come vedete eccolo qui sul piatto tagliato sottile a fette sottile sottile lavate non sbucciate e poi procediamo a darli ai pappagalli io non so come fate voi ma io faccio così ai canarini gliele metto su queste ciotole qui di ceramiche che sono perfette dopo un giorno se non lo mangiano lo tiro via quelle che sono marcite le butto via agli inseparabili la stessa cosa più o meno vedete ancora la ciotola in ceramica con dentro su le carote ecco alle cocorite come vedete ancora più o meno la stessa cosa è solo che in questo caso la ciotola non è in ceramica ma è di plastica perché le cocorite sono gli ultimi arrivati ai parrocchetti eccole qui ancora se come loro mangiano di più viene un dato di più ecco le carote dietro ci sono i cacariti i cacariti i cacariti che sono pappagalli razzolanti scusate per l'ambulanza che passa sono pappagalli razzolanti loro tutto ciò che le metto su lo buttano su in aria domani vedrete che le carote le troverete su per aria tutto tutto destra e sinistra perché loro razzolano ecco poi è tutto fatemi sapere voi magari come fate voi a dare le carote o la frutta ai vostri pappagalli se ho sbagliato qualcosa fatemelo sapere qui sotto nei commenti e vi ringrazio grazie per la visione di questo filmato vi invito a iscrivervi al canale e buona visione ciao alla prossima